Mai prendere decisione nei momenti difficili, mai! Quando hai un tuo rapporto affettivo in crisi e dici la lascio o non la lascio, sto con lui o non ci sto, mai nel momento di disagio prendere decisione. Perché? Perché quella coscienza nascosta aurorale, che appartiene ad un regno che non conosciamo, ha dei saperi terapeutici che la coscienza attenta non ha.